Il progetto di legge prevede un contributo per tutti coloro che affetti da alopecia a seguito dei trattamenti antitumorali necessitano l'acquisto di una parrucca. Oggi sappiamo tutti che le parrucche hanno un costo onerosi e purtroppo non tutti possono permettersela. È un progetto che ho pensato e ho voluto fortemente perché rappresenta un'iniziativa molto molto importante, un atto di civiltà soprattutto nei confronti di quelle persone che oggi soffrono e già devono combattere contro questo brutto male e con le cure che ne conseguono e quindi con questo progetto noi andiamo, cerchiamo di evitare la sofferenza psicologica del paziente malato di cancro e cerchiamo di migliorarne la qualità della vita, il rientro al lavoro, la socialità e cerchiamo di superare la diseguaglianza rispetto a chi oggi non può acquistare una parrucca, ma soprattutto lo ritengo un progetto molto importante perché finalmente se dovesse essere approvata questa iniziativa l'Abruzzo si è uguale rispetto alle altre regioni d'Italia. In Italia sono soltanto 13 le regioni che hanno adottato un provvedimento simile, ma questo progetto non prevede soltanto un contributo economico, ma istituiamo anche la banca dei capelli che va ad incentivare la donazione delle ciocche dei capelli e attraverso delle convenzioni tra le associazioni di categoria dei parrucchieri e le imprese di produzione e di distribuzione di parrucche andiamo a sopperire piano piano il contributo economico e quindi a cercare di ottenere gratuitamente delle carri parrucche oppure ottenerle ad un prezzo molto molto più basso. Inoltre diamo anche dei contributi a favore delle associazioni di volontariato che oggi svolgono un importante ruolo sui territori, ce ne è una in particolare che dona già delle parrucche in tutto Abruzzo. Ovviamente per me oggi questo progetto di legge è un'iniziativa ancora più importante perché non ho potuto partecipare al funerale di una persona a me molto cara, ex vice sindaco di Sulmona Nicola Angelucci che purtroppo è andato via a seguito di questa brutta malattia. Per cui io spero che tutta la maggioranza veramente accolga con favore questa iniziativa perché rappresenta un atto di civiltà.